Buongiorno, eccomi qui come promesso dal video precedente a parlare di energia verde direttamente da Rio de Janeiro e in particolare dalla caldissima spiaggia di Copacabana. Secondo i dati del Ministero delle Energie, l'88% dell'elettricità del Brasile proviene da fonti rinnovabili, in particolare da biomassa e l'energia idroelettrica. Solo il 7% dell'energia rinnovabile utilizzata dal Paese è di importazione, mentre il restante è autoprodotto. Per quel che riguarda invece il potenziale proveniente da fonti solari, non è ancora pienamente utilizzato, nonostante siano presenti condizioni climatiche favorevoli, ma negli ultimi anni sono stati avviati importanti progetti di iniziative governative, volte alla promozione e all'installazione di impianti fotovoltaici e di tecnologie economicamente complessive. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con la prossima pilola di energia.